La comunità Iside rischia di chiudere. Sono 56 ospiti che rischiano di perdere un prezioso presidio di curi e assistenza e oltre 50 i lavoratori in bilico. Dalla struttura psichiatrica realizzata in concorso d'appalto con l'ASL Napoli 2 Nord rischiano di essere deportati altrove 56 pazienti, dice la direttrice Teresa Gaudino. Si tratta di tagli del comparto sanità previsti dai vertici dell'azienda sanitaria locale. Continua la protesta a Licola Pozzuoli, comune di Giuliano, dove la sede della comunità Iside è avvolta da striscioni e manifesti di protesta perché l'ASL faccia marcia indietro. I nostri malati sono malati psichiatrici, sono dei malati che sono a detta di qualcuno dei nostri ospiti difettati di fabbricazione, nel senso che sono sfortunati. Sono persone che non hanno mai goduto del piacere della vita e adesso mi viene tolto il diritto di continuare a vivere una vita dignitosa. Il problema è che devono comunque provvedere al trasferimento o meglio alla deportazione dei nostri ospiti perché questa è una cosa che è stata fatta nella maniera più triste possibile. Innanzitutto sono stati non solo ingannevoli e quindi non ci hanno preparato a questa cosa, per cui noi riteniamo che il trasferimento non sia un trasferimento ma sia più che altro effettivamente una deportazione per i nostri ospiti che dalla sera alla mattina si sono trovati in una situazione del genere e ovviamente così delicata che per loro diventa ancora più una situazione da non poter gestire perché sono molto, molto, molto scossi, molto.